Buongiorno da Naplesfantastic. Oggi vi propongo un gioco. Il gioco è Dove Siamo. Vi porto in Francia grazie a questo gioco da fare da soli o da condividere in famiglia o insieme agli amici durante le feste natalizie. Vi consiglio di trasmettere questo video sulla tv per indovinare insieme 12 città francesi. Sono presentate iniziando con le più popolose. Indovinate a bruciapelo, dopo il nome della città, a quale dipartimento appartengono e anche il relativo numero del dipartimento, lo departement. Avete 7 secondi per riflettere, potete anche mettere in pausa e dopo verifichiamo insieme la risposta esatta. Siete pronti? Si vous êtes prêts, nous commençons. Cominciamo con le città con più di 100.000 abitanti. Parigi, Paris, capitale della Francia, con 2.229.000 abitanti circa. Il numero del dipartimento è il 75. La piazza della Concordia è situata alla base dei Champs-Élysées e sullo sfondo, su questa foto, vedete la Tour Eiffel, simbolo dell'Exposition Universelle del 1889. Marsiglia, Marseille, seconda città della Francia, appartiene al dipartimento 13, les Bouches du Rhône. La città ha un grande porto turistico e la passeggiata conosciuta come la Canobière è molto famosa. È dominata dalla basilica Notre-Dame de la Garde, chiamata anche la Buona Madre, dallo stile neobizantino e decorata da mosaici. Lyon, terza città francese, il cui dipartimento è il 69, che corrisponde al Rodano, le Rhône. È città dei due fiumi, le Rhône e la Sône, dominata dalla basilica di Fourvière. Le Viollon, la vecchia Lyone, nacque grazie al commercio della seta, di cui è capitale. È anche capitale francese della gastronomia. Tolosa, Toulouse, la città rosa, è la quarta città della Francia. Appartiene alla Haute-Garonne, numero 31. La Place du Capitole, Campidoglio, e molte case della città rivestono il colore rosa. Nizza, Nisse, è inconfondibile con la promenade des Anglais passeggiata lungo le numerose spiagge. Il numero del dipartimento è lo 06, che corrisponde alle Alpes-Maritimes. La Place Masséinat, dalla pavimentazione a scacchi neri, è circondata da edifici neoclassici. Strasburgo, Strasbourg, ottava città della Francia, è la sede ufficiale del Parlamento europeo. Appartiene al departement Barin, numero 67. È la capitale del Natale, ed è piacevole passeggiare per i canali del centro, detto La Piccola Francia, La Petite France. Passiamo ora alle città di cui il numero è inferiore a 100.000 abitanti. Avignone, Avignon, con circa 92.000 abitanti, il numero del dipartimento è l'84, che corrisponde al dipartimento Vaucluse. Il ponte Benosè, il quale scorre sul fiume Rodano, è più noto come la canzone dei bambini sur le pont d'Avignon, che forse avete imparato. Avignon, città dei papi, è anche famosa per l'imponente palais des papes nel centro della città. Cannes, appartiene al dipartimento Alpes-Maritimes, numero 06, è nota per il Festival del Film, che si svolge a maggio nel Palais des Festivals e des Congrès. È piacevole passeggiare sulla famosa Croisette, cioè il lungomare. Ora passiamo a città con meno di 50.000 abitanti. San Malo, appartiene al dipartimento Ile-Villenne, cioè numero 35. Cite Corsaire, città dei corsari. La città vecchia di questa città bretonne è difesa dalle mura molto imponenti. Durante la bassa marea si possono raggiungere a piedi gli isolotti del Grand Bay e del Petit Bay. Sul Grand Bay scoprirete la tomba di Chateaubriand, noto scrittore di San Malo, mentre sul Petit Bay, Vauban costruì un fortino per difendere la città di San Malo. Montecarlo, Montecarlo, Principauté de Monaco, conta all'incirca 35.000 abitanti. Montecarlo è un quartiere della città di Monaco, quindi del Principato. Si estende su poco più di 2 km quadrati e la lingua ufficiale è il francese. Ci si svolgono molti eventi di cui l'Orali di Monte Carlo, il Festival internazionale del Cirque e anche il Grand Prix de Formulà de Monaco. In più, Monte Carlo è stata per anni la sede della radio che ascolto tutti i giorni con molto piacere. Radio Monte Carlo è, ve lo ricordo, la radio italiana della Principauté de Monaco. Se qualche speaker, giornalista o centralinista di Radio Monte Carlo fa questo gioco, colgo l'occasione per ringraziarvi e salutarvi effettuosamente. Chambord è piccola. Infatti, ci vivono soltanto 149 abitanti. È un paesino del Loire-et-Cher, numero 41, conosciuto per il meraviglioso castello di Chambord che possiede 426 stanze, 77 scale, 282 cammini. Per terminare, le Mont Saint-Michel conta soltanto 33 abitanti. Appartiene al Departement 50 della Monche che porta lo stesso nome del mare La Monche-La Manica. Al Mont Saint-Michel ci sono le più grandi maree d'Europa. La differenza tra alta e bassa marea durante le maree di Equinoxio può raggiungere 15 metri e il mare risale alla velocità di un cavallo al galoppo. Si arriva alla cima del monte percorrendo l'unica strada chiamata la Grande Rue fino alla Bazzia. E dalla Bazzia, la veduta su tutta la baia del Mont Saint-Michel è una meraviglia. La meraviglia, la merveille è anche il nome che viene dato alla Bazzia del Mont Saint-Michel, l'abbaye du Mont Saint-Michel. Ecco, penso che conoscevate molte di queste risposte. Aggiungete dei commenti se lo desiderate. Vi invito a scoprire tutte queste città e altre zone della Francia. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube La Pleu Fantastique senza dimenticare di attivare la campanella in modo di ricevere tutte le novità. Parlatene con i vostri amici e condividete se lo volete. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite de très bonne fête de fin d'année et je vous souhaite une excellente année 2022. Sous-titrage ST' 501